Una vittoria, 5 punti in 6 partite. Troppo pochi per una squadra costruita per giocarsela con le grandi del girone per il massimo obiettivo. Cambio della guida tecnica al Corato che ha deciso questa mattina di sollevare dall'incarico a due soli giorni della sconfitta estera di Terlizzi. Vito Castelletti, la società del presidente Giuseppe Maldera, ha scelto al suo posto Gino Zinfonino lo scorso anno alla guida dell'USB Tonto, sempre in eccellenza, debutterà sulla panchina di Nero Verdi. Giovedì in Coppa Italia di Lettanti, nuovo allenatore dunque per il Corato, di nuovo in vetta alla classifica, invece il Terlizzi che si aggiudica il derby con il netto punteggio di 3-0, scatenato tra il rosso-blu di Coso, l'autore di una doppietta, rompe l'equilibrio prima della mezz'ora e poi raddoppia a metà ripresa. Il Tressi invece è opera di Sciancalepore nel finale. È una bella vittoria, veramente i ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale, oggi non ho niente da rimproverare, il merito è solamente loro. Sono stati bravi, sia in possesso che non possesso e ci siamo riscattati dalla prestazione un po' paca di Trani. L'emozione è forte, l'emozione è bella, anche perché quando si gioca con una squadra importante come il Corato, a me è sembrato di vivere la stessa partita che abbiamo giocato con il Casarano. Non dimentichiamo che il Casarano e il Corato sono tutt'oggi le squadre favorite, le corazzate di questo campionato. Per noi è un gran risultato perché abbiamo vinto con entrambe in casa, ma abbiamo vinto. Il Terlizzi resta così l'unica squadra imbattuta dell'eccellenza e torna a comandare in classifica, perfezionando il sorpasso ai danni della Fortis Altamura. Quinta vittoria di fila, no quinto risultato utile consecutivo, sì per i Murgiani, che fanno 0-0 al D'Angelo contro un Otranto decisamente in salute. L'impianto per come hanno giocato i ragazzi diciamo di sì, però sono contento lo stesso, perché veniamo da un filotto di partite importanti, quindi ci può stare che adesso le squadre vengono in casa e fanno una partita un poco, diciamo che cercano di contrapporsi in una certa maniera. Sapevamo di incontrare una grande squadra, l'hanno dimostrato anche oggi, però i miei sono stati perfetti, tant'è che abbiamo concesso pochissimo a loro. Fortis Altamura a sua volta raggiunto in seconda posizione da un Casarano al terzo successo di fila, battuto 3-0 l'Unione Calcio Biceglie sul neutro di Tricase. Terza vittoria consecutiva anche per il Molfetta Calcio, che espugna 2-1 il fanuzzi di Brindisi nella domenica dell'esordio di Massimiliano Olivieri sulla panchina dei Messapici, doppietta nel primo tempo per gli uomini di Pino, giusto per lo scatenato Giovane Cfarcu, padroni di casa, che accorciano nella ripressa con Giunta, ma non riescono poi a completare la rimonta. Vittorie preziose, le prime in questo campionato nel formato trasferta per Barletta, 2-1 al Paolo Poli con la Molfetta Sportiva, grazie alle reti di Varsi e Telera, e per la Vigortrani che batte 2-0 il Sansevero, Cenerentola del Girone, insieme proprio alla Molfetta Sportiva, Negro su punizione porta in vantaggio i Biancazzurri, Disca Ringella nella frazione inaugurale, Musa chiude i conti in pieno recupero, primo successo in eccellenza per la Vetrana e prima sconfitta per il Gallipoli al termine dello scontro diretto andato in scena al Celestino La Serra, Mignogna e Ciriolo, gli autori dei gol per la squadra di Giuseppe Branà, vince di misura il Mesagne che batte 1-0 il Viesta in casa e lascia la maglia nera del Girone. Giovedì infine torna la Coppa Italia di Lettanti con le sfide valide per i quarti di finale, Barletta Bieste, Ucce Bicelle Corato e Forti Saltamura Brindisi decidono le semifinaliste, Casarano e Avetrana invece si affronteranno nella gara d'andata.